Non conosce i limiti l'Atalanta che ieri ha battuto lo Shakhtar ottenendo una storica qualificazione agli ottavi di Champions. In 2000 stanotte hanno atteso il rientro della squadra a Bergamo. Riportare entusiasmo e dare carica alla squadra, la formula di Gattuso è semplice, dal punto di vista tattico è probabile il ritorno al 4-3-3 con Milik centravanti. Grandi manovre di mercato, Llorente potrebbe partire destinazione Inter. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come avrete potuto intuire dai nostri titoli, grande spazio nella nostra trasmissione quest'oggi all'Atalanta che ha compiuto un'autentica impresa approdando agli ottavi della Champions. Noi ne parleremo con Lorenzo Di Benedetto, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. E Raimondo De Magistris, benvenuto anche a te. Ciao Lorenzo, buonasera. Dunque l'Atalanta, chi l'avrebbe mai detto, verrebbe da sentenziare, soprattutto se ci si riferisce alle prime tre partite del Giro della Champions quando la squadra di Gasperini aveva raccolto zero punti e poi c'è stato quel pareggio con il City che ha dato grande speranza, grande carica all'Atalanta e adesso siamo a fare i complimenti ai Bergamaschi. Sì, è la prima volta nella storia della Champions che una squadra supera la fase a gironi con sette punti e la seconda volta nella storia della Champions che una squadra supera un girone dopo aver perso le prime tre partite. Capito? Io sono solo al Newcastle di Alan Shearer. La fortuna aiuta gli audaci, mi verrebbe da dire, perché questa Atalanta, Gian Piero Gasperini che è il suo, è il Deus Ex Machina, è colui che ha creato secondo me questo miracolo Atalanta, hanno osato, hanno giocato come dovevano nella seconda parte del girone, sono cresciuti durante la competizione perché anche la seconda sconfitta è stata molto diversa dalla prima, quella vera e propria lezione di gioco che ha dato la Dinamo all'Atalanta nella gara ad esordio, si è vista un'Atalanta a crescere anche nel due sfide con il City, si è vista una grande Atalanta a San Siro contro la Dinamo e si è vista una grandissima Atalanta ieri sera. Perché quella era una gara molto difficile contro una squadra che magari nel complesso tecnicamente non era superiore a questa Atalanta che ricordiamo l'è andata in Ucraina senza Ilicic e Zapata che sono due dei giocatori più importanti di questa squadra ma certamente lo Shakhtar è una squadra che ha grande esperienza in questa competizione e che è abituata a giocare la Champions League e del resto l'abbiamo visto anche a San Siro con che astuzia riuscì a vincere quella partita contro l'Atalanta. E invece si è vista davvero una grande idea che è riuscita a imporre il suo gioco, è riuscita a uscire alla distanza dopo un primo tempo difficile, problematico, bellissimo il gol di Pasalic perché lì si vede davvero che quello è un gol provato in allenamento, uno schema provato, questa è davvero una grande Atalanta. Complimenti all'Atalanta, il giocatore è per Cassi ma soprattutto complimenti a Gasperini che si conferma a mio avviso ancora una volta il numero uno, il migliore allenatore italiano che c'è in questo momento in circolazione. E poi parleremo naturalmente anche di Gasperini però adesso sentiamo la soddisfazione dell'amministratore delegato dell'Atalanta Luca per Cassi in questa intervista raccolta dal nostro inviato Andrea Losapio. È una serata da ricordare, è una serata veramente che si è avuto un epilogo straordinario, incredibile sotto certi punti di vista e veramente c'è stata una serie di combinazioni che hanno permesso di raggiungere un risultato che però alla fine io penso che nell'arco del girone l'Atalanta abbia meritato per quello che ha dimostrato in campo. Cosa avete pensato in tribuna mentre aspettavate il VAR al 66esimo della partita? E continuavamo a guardare l'episodio però insomma poi la tele è sempre un po' più in ritardo è stato un episodio decisivo insomma sono queste le abbiamo vissute, sono partite che gli episodi fanno la differenza come in tanti però proprio in questa competizione ancora di più. Dove ha vinto l'Atalanta stasera? Penso in tutto, penso veramente sotto tutti i punti di vista in tutti i reparti delle zone del campo un atteggiamento straordinario preparata veramente con uno spirito da battaglia e mi sembra veramente una partita stra stra meritata. Dispiace per gli assenti però alla fine vuol dire che il gruppo è un gruppo come ribadisce sempre il mister che dà il tutto quindi è il giusto premio a un gruppo che sta facendo un grande lavoro. E a questo punto l'Atalanta può anche pensare di poter diventare la rivelazione della Champions con la forza della spensieratezza può pensare di poter battere chiunque? No perché il Manchester City ci ha dimostrato di quanto è superiore all'Atalanta perché comunque l'Atalanta ha perso 5 a 1 in casa del City al ritorno con la stessa squadra di Guardiola che di fatto aveva già il pass staccato, non è andato oltre il pareggio, il rigore fallito da Gabriel Jesus sugli ultimi dieci minuti in superiorità numerica e con Walker in porta con l'Atalanta che non riuscì di fatto mai a tirare in porta quindi bene essere stracontenti, ci mancherebbe altro però piedi per terra e sicuramente Gasperini lo sa benissimo, dovesse incontrare un Barcellona, un Liverpool non credo che l'Atalanta potrebbe dire la sua però ci sono anche squadre abbordabili per l'Atalanta perché c'è l'Ipsia, c'è il Valencia che sono due squadre che l'Atalanta può battere in questo caso sì e è già chiaramente un'impresa storica doppia perché la prima impresa storica dell'Atalanta è stata entrarci in questa Champions League la seconda è passare il turno quando nessuno lo avrebbe mai detto dopo le prime quattro partite e arrivare ai quarti di finale sarebbe un qualcosa di incredibile per Bergamo per una società storica, 112 anni come l'Atalanta e quindi c'è questa possibilità l'Atalanta è stata fortunata anche in questo girone sia al sorteggio di Monte Carlo che anche nel momento in cui la Dinamo Zagabria stava vincendo 3 a 1 al 93esimo in casa contro lo Shakhtar e poi la partita è finita 3 a 3 quindi anche un po' di fortuna per l'Atalanta la stessa fortuna che servirà anche lunedì a Nyon dovesse arrivare un sorteggio favorevole l'Atalanta potrà andare ancora avanti Sai, posso aggiungere un dettaglio Lore che secondo me le seconde quest'anno hanno anche la possibilità di un sorteggio abbordabile perché ad esempio il Napoli ai ottavi non può pescare la Juventus e il Liverpool che sono due delle grandi favorite per la vittoria finale e può pescare invece squadre come Lipsia e Valencia che hanno chiuso il proprio raggruppamento al primo posto e non sono certamente avversari insuperabili stesso discorso per l'Atalanta quindi quest'anno paradossalmente essere in prima o in seconda fascia non fa grossa differenza perché poi in seconda fascia al netto delle italiane ci sono squadre come Tottenham che con Mourinho ha subito cambiato marcia c'è il Real Madrid, c'è il nuovo Chelsea di Lampard quindi sarà un sorteggio molto molto equilibrato Sentiamo nel frattempo la felicità di Deron, uno dei protagonisti dell'Atalanta Sì, abbiamo fatto una grande gara secondo me primo tempo che abbiamo creato 3-4 occasioni il primo tempo che loro hanno sbagliato un po' sul pressing nostro poi non abbiamo fatto gol ma siamo stati in partita poi nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo meritato abbiamo fatto 3 gol sicuramente dopo l'espulso penso che era quasi giocato perché abbiamo dominato, abbiamo cercato di fare gol e loro hanno fatto secondo me poco siamo tutti troppo felici non ho tante parole ma davvero grazie a tutti grazie a tifosi, grazie alla squadra perché i ragazzi sono stati straordinari anche Ibanez che è entrato che ha giocato 20 minuti fino ad adesso siamo stati strappitosi davvero Prima Raimondo parlavi di Gasperini dei meriti straordinari di questo allenatore che ha costruito il miracolo Atalanta un Gasperini da 10 e lodo e un Gasperini che a tuo parere merita anche la panchina d'oro in effetti in questo momento è difficile trovare un altro allenatore che possa meritare questo premio Sì, è un autentico miracolo benissimo la società lungimirante l'abbiamo vista anche con la qualificazione agli ottavi di Youth League grandissimo settore giovanile squadra molto forte ma Gasperini ha fatto negli ultimi tre anni e mezzo degli autentici miracoli non possiamo dimenticare che questa squadra non ha il budget di tutte le altre partecipanti agli ottavi di Champions League e soprattutto che negli ultimi tre anni e mezzo l'Atalanta ha vissuto di plus valenza a Gasperini hanno venduto tantissimi giocatori che sì, Conti, Caldara, Kurtic, Spinazzola, Petagna, Cristante sicuramente me ne dimenticherò qualcuno tutti i giocatori valorizzati da Gasperini non sostituiti da campioni ma sostituiti dalle descommesse che Gasperini ha tramutato in certezze e anche i grandi giocatori di questa Atalanta penso a Gomez penso a Ilicic che scorsa settimana è stato premiato come uno dei migliori centrocampisti dell'ultima Serie A Duvan Zapata Luis Muriel sono tutti arrivati a Bergamo come delle scommesse come terni incompiuti Muriel fino a pochi mesi fa era da tutti etichettato come genio estregolatezza il giocatore che magari ti decide una gara e poi ne sbaglia quattro ieri abbiamo visto con che umiltà e sacrificio si è presentato in campo a Kharkiv Gomez è il leader indiscusso di questa Atalanta è davvero la trasposizione di Gasperini in campo mi verrebbe da dire Zapata non ha mai segnato tutti questi gol ma lo stesso Pasalic, Deron sono diventati centrocampisti completi, totali non si era mai visto l'Atalanta ha vinto il girone o meglio si è qualificata agli ottavi con Masiello e Jim City in difesa cioè Gasperini sta facendo degli autentici miracoli e non è una stagione sono da tre anni che l'Atalanta ottiene questi risultati più vende più migliora davvero un grande allenatore per me merita la panchina d'oro tanto stiamo vedendo anche i festeggiamenti dei tifosi dell'Atalanta questa notte al rientro della squadra a Bergamo in 2000 hanno atteso il ritorno di Gasperini e di tutto il gruppo nero-azzurro chissà se poi dovesse davvero arrivare anche ai quarti probabilmente i tifosi sarebbero ancora di più 2000 sono stati stanotte arriverebbero chissà quanti sì posso dire che sono pochi 2000 perché comunque beh sono arrivate anche le tre di notte sotto la pioggia sì però erano le due e mezzo comunque un orario che ci può stare col fine settimana vicino per una cosa che in 112 anni non era mai successa però a parte le battute più che altro perché comunque lo stadio di Bergamo è sempre pieno sempre gremito quindi sono tanti tifosi dell'Atalanta che seguono la squadra giornata dopo giornata sia in campionato che in Champions League abbiamo visto anche tra virgolette l'esodo per andare a San Siro dove l'Atalanta ha giocato le tre gare casalinghe di questa Champions quindi è vero sono tanti perché comunque 2000 tifosi alle due e mezzo del mattino sono tantissimi per andare ad accogliere la squadra però me ne aspettavo di più sentiamo invece il punto di vista interessante supercassi da parte di Guglielmo Stendardo ex Bergamasco che è intervenuto a TNV Radio ma un visionario una persona che prevede ciò che potrebbe succedere ma che lo fa attraverso una cultura del lavoro incredibile i suoi successi non sono soltanto legati all'aspetto calcistico ma se andate anche poi a vedere in ambito imprenditoriale in tutte le aziende è una persona che ha ottenuto tutti i traguardi attraverso il lavoro attraverso un lavoro meticoloso perché se noi parliamo dell'Atalanta vi posso garantire che ci sono delle persone che lavorano H24 per l'Atalanta e anche per il settore giovanile che è un settore giovanile individuato in Italia ma anche in Europa perché continua a sfornare giovani talenti che non giocano soltanto all'Atalanta perché se noi andiamo a vedere anche i vari Cornelius Coluseschi a Parma questi sono tutti i ragazzi scelti dai tecnici dagli osservatori dell'Atalanta e quindi anche sotto questo punto di vista una società esemplare possiamo dire che vincono le idee? io credo sì oltre alle idee io credo che l'Atalanta sia anche un bel segnale per chi crede nei sogni cioè i sogni si possono avverare se si hanno le idee giuste e soprattutto se si lavora cioè non è detto che soltanto attraverso sacrifici economici si ottengano dei risultati ma anche attraverso le idee attraverso persone che lavorano tanto attraverso un popolo che vive per la propria squadra parliamo adesso del Napoli iniziato il nuovo corso con Gattuso in panchina e allora Raimondo ti chiedo subito che cosa ti ha colpito della conferenza stampa di ieri del nuovo tecnico partenopeo che ha detto non ho paura di niente sì sì conferenza stampa basso profilo da parte di Gattuso anzi paradossalmente le uniche dichiarazioni forti poche per la verità perché De Laurentiis si è limitato a presentare Gattuso poi non ha ha chiesto ai giornalisti presenti di non fargli domande però sono arrivate proprio da De Laurentiis quando Gattuso a un certo punto dice mi auguro di conquistare nella mia carriera il 10% dei trofei vinti da Ancelotti il suo predecessore De Laurentiis lo stoppa subito e gli ricorda che qui è a Napoli e a Napoli c'è bisogno di conquistare risultati importanti il quarto posto e questo chiaramente è l'obiettivo della società della squadra ma anche di Gattuso perché gli garantirebbe la conferma per la prossima stagione è chiaro che questo è un contratto di sei mesi con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League che ad oggi è molto difficile perché questo Napoli è molto lontano dalla Roma dal Cagliari ma anche non solo in termini di punti 8 ma anche in termini di gioco Cagliari, la Roma l'Atalanta di Gasperini giocano molto meglio rispetto al Napoli prima mossa di Gasperini questa mattina anche oggi c'era De Laurentiis a Castelvolturno non solo ieri ripristinare il 4-3-3 con Allan vertice basso con ecco Milik centravanti Lozano Insigne vedremo se basterà verrebbe da dire perché è chiaro che se fino a questo momento Ancelotti ha giocato col 4-4-2 è anche perché questa squadra ha degli evidenti limiti tattici Allan non è un vertice basso di centrocampo nel 4-3-3 di Sarri Allan era chiaramente una mezzale lì c'era Giorginio quindi vedremo se basterà anche in attacco bisognerà vedere se effettivamente saranno questi perché comunque ci sono anche altre opportunità altre opzioni per Gattuso c'è Mertens che comunque è stato provato anche quest'oggi tra i titolari non sono scelte chiaramente definitive però in questo momento ci sentiamo di abbozzare questa formazione però diciamo che Gattuso è stato chiamato anche per ripristinare il 4-3-3 questo sì perché il 4-4-2 la società non piaceva secondo me è più un problema di uomini che di modulo però poi sarà il campo a parlare già a partire dalla gara di Parma su quel che potrà fare Gattuso al Napoli sentiamo adesso anche il parere di un ex calciatore che ha vestito anche la maglia della Nazionale Daniele Carnasciali sicuramente un po' d'ordine all'interno dello spogliatoio perché ultimamente ci sono stati un po' di problemi e forse questa è la causa dell'esonore di Ancelotti perché poi sul campo anche ieri hanno fatto vedere che sono una buona squadra e quando vogliono giocano bene però quando poi ci sono problemi specialmente non con l'allenatore ma con la società i giocatori forse rendono meno e quindi De Laurenti si è pensato di cambiare Ancelotti ma insomma secondo me era meglio se fosse rimasto con Gattuso è uno che ha grinta è uno che ha voglia e quindi ripeto deve mettere ordine all'interno dello spogliatoio poi i giocatori sono validi possibilità per il Napoli in questo momento di arrivare in Champions League? Sì il campionato è ancora lungo è settimo in classifica a sette punti dalla zona Champions però ripeto il Napoli ha giocatori validi ha una rosa molto molto forte che se la può giocare fino alla fine poi non è detto perché se quelle davanti vanno più forti sono tanti punti da recuperare però sono anche tante le partite da giocare serve una scintilla magari una vittoria contro il Parma per poter riportare un minimo di entusiasmo? Sì le vittorie sono sono importanti però quello penso quello che preme ora Gattuso è vedere un po' la squadra capire i giocatori come stanno e ripartire dal Parma Ripartire dal Parma è chiaro che serve l'entusiasmo serve la vittoria assolutamente al Napoli per poi poter affrontare anche con più serenità i prossimi impegni detto questo invece così iniziamo anche a parlare di futuro immediato per il Napoli cosa ti aspetti sul mercato di gennaio innanzitutto come diceva giustamente Raimondo prima Allan non può ricoprire quella zona del campo non può essere lui il play e quindi serve come il play a questo Napoli e penso che sia una delle prime richieste che Rino Gattuso farà o ha già fatto chiaramente sia De Laurentiis che ha giuntoli poi chiaramente deve un po' provare e queste due partite che separano il Napoli e tutta la Serie A dalla sosta natalizia saranno fondamentali peccato per Gattuso che abbia così poco tempo per preparare la prima partita perché comunque il Napoli gioca di sabato contro il Parma e non succede quasi mai che una squadra che gioca in Champions gioca poi il sabato quindi pochi allenamenti per mandare in campo la sua prima squadra e poi chiaramente ci dovrà essere il mercato a venire in aiuto a Rino Gattuso e allora a questo proposito sentiamo il direttore di TNV Radio Niccolò Ceccarini e le sue bombe di mercato bombe tra virgolette Per quanto riguarda il mercato del Napoli adesso con l'arrivo di Gattuso qualcosa potrebbe cambiare soprattutto al centrocampo l'idea è quella di andare a prendere un regista e quindi Berzo del Genk potrebbe essere la prima opzione ma attenzione anche a Torreira che è in uscita dall'Arsenal che potrebbe diventare una grande occasione di mercato sul resto il Napoli credo non farà grandi cose a meno che non voglia intervenire sulla fascia sinistra una fascia sinistra nella quale in questo momento il giocatore più affidabile è sicuramente Mario Rui per quanto riguarda Agulam c'è da capire quali potrebbero essere gli scenari nel caso in cui si decidesse di intervenire in questo settore del campo il sogno resta Castagna Castagna è dell'Atalanta ma con la qualificazione agli ottavi di Champions League diventa assolutamente impossibile poter fare un'operazione a gennaio comunque il Napoli si sta muovendo nella sosta partirà l'assalto sicuramente al regista grazie a Niccolò Ceccarini Remondo un'altra bombetta sul Napoli quale può essere? No confermo Bergio in questo momento è il primo obiettivo ne hanno parlato anche in settimana a margine del pranzo UEFA Giuntoli ha ribadito di essere molto interessato il Genk lo darà via perché al contratto scadenza 2021 servirà un'offerta di 20 milioni di euro servirà soprattutto arrivare in anticipo rispetto alle concorrenti perché anche il Liverpool è molto interessato al giocatore quindi il Napoli se lo vuole deve chiudere in fretta perfetto grazie a Remondo Magistris grazie a Lorenzo Benedetto grazie a te a tutti voi per averci seguito buona serata